Anziani ed emergenza abitativa. Secondo una ricerca realizzata in Toscana dalla SPICGL presentata a Firenze, anche nella nostra regione occorre affrontare la questione in termini diversi, integrando il sistema abitativo con quello dei servizi sociali e contestualizzando gli interventi nel quartiere in cui l'anziano vive. Molti problemi sono di ordine strutturale. Il 70% delle case abitate da persone con più di 65 anni presenta problemi di agibilità per scale interne non a norma, dislivelli eccessivi, bagni troppo piccoli, armadi troppo alti, porte e corridoi troppo stretti. E solo il 2% dei lavori effettuati sugli edifici sono stati finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche. Ma la crisi sta creando anche nuove problematiche. C'è un problema a sfratti che è sempre più impellente, derivante anche da un problema di risorse, di reddito basso, di difficoltà, di morosità. C'è un problema che riguarda anche le abitazioni delle anziane per renderle più adeguate a una situazione di invecchiamento. C'è un problema emergente che è uscito nei giorni scorsi sulla stampa, derivante dall'aumento delle persone anziane che vendono la nuda proprietà delle proprie case per far fronte alla situazione di basso reddito. Dalla ricerca SPICGL emerge comunque il netto orientamento degli anziani a continuare a vivere nel proprio alloggio, magari usufruendo di servizi di telesoccorso e cura a domicilio, oppure di trasporto e accompagnamento. Si conferma quindi l'esigenza di politiche abitative specifiche, che rilancino il mercato degli affitti e l'edilizia sociale, intervengano sugli oneri sociali e sostengano le ristrutturazioni. La Regione sta lavorando su due profili che io ritengo fondamentali. Uno, quello della sostenibilità energetica degli appartamenti, che è anche un contributo economico per poi gli assegnatari che vivono in appartamenti dove la bolletta è meno salata, ma l'altra è quella di incentivare i modelli relazionali all'interno dei condomini diversi, che superino questo scivolare lento verso la solitudine e che quindi rintrecciano un po' le relazioni. La nostra idea è quella di rendere misurabile anche questo coefficiente, che è tanto importante quanto quello energetico che è codificato già nella costruzione degli appartamenti e degli alloggi.